Il bike sharing è arrivato anche ad Alpignano. Mercoledì 11 novembre, presso un'affollatissima piazza Berlinguer, il sindaco Sergio Andreotti ha inaugurato la prima stazione di bike sharing alpignanese. Numerosi i cittadini presenti ed interessati che hanno già sottoscritto il loro abbonamento. Bici in Comune è un innovativo sistema pubblico di noleggio biciclette automatico studiato per facilitare i collegamenti tra i mezzi di trasporto. Il servizio è unico nel suo genere perché è costituito da una rete di comuni quali Collegno, Alpignano, Druento, Rivoli, Grugliasco e Venaria Reale. Usare le biciclette in Comune è semplicissimo, è sufficiente abbonarsi presso gli uffici dei comuni aderenti per ricevere la card, il kit dell'utente e tutte le informazioni utili per l'utilizzo. Per prelevare la bicicletta si accosta la tessera al lettore presente sulla colonnina che sblocca la bici e comunica al sistema quale utente ha iniziato ad utilizzare il servizio. La consegna della bicicletta può avvenire in un punto diverso e in un comune differente da quello del prelievo. Inoltre è possibile verificare in tempo reale la disponibilità di biciclette nelle diverse stazioni e prenotarle, oppure controllare di volta in volta quanti chilometri si sono percorsi, quante calorie consumate o ancora quanta CO2 si è risparmiato. Un'iniziativa positiva che vede ad Alpignano due stazioni di Nolo e Riconsegna, una qui in piazza Berlinguer e l'altra davanti al Comune. Davanti al Comune è uno stallo provvisorio in attesa che finisca il Movicentro, che è la nuova stazione di Alpignano e poi lo stallo sarà la stazione come giusto che sia. Si può usufruire del servizio pubblico di bike sharing tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 24. L'iscrezione annuale al servizio costa 13,50 euro, mentre quella settimanale 3 euro. La prima ora di utilizzo del servizio è gratuito, dalla seconda ora in avanti il costo orario è pari a un euro. Le modalità di pagamento e di sottoscrizione dell'abbonamento sono diverse, dal bollettino postale al bonifico bancario. Per usufruire del servizio è sufficiente aver compiuto 15 anni, presentare un documento valido di identità e sottoscrivere un contratto. Una volta in possesso della smart card, la tessera elettronica, con validità 12 mesi, si potrà accedere ai mezzi. Informazioni e segnalazioni all'800 910 658 oppure all'indirizzo www.bicincomune.com Grazie. 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 Grazie a tutti.